... Bene, ci hai dato tante informazioni, te ne diamo una a noi a chiusura di questa brillante intervista. Sappi che ieri, proprio ieri, 40 di questi mattacchioni sono sbarcati nelle nostre coste e poi hanno preso il treno a Grigento Palermo, ovviamente in maniera abusiva e non hanno pagato il biglietto nel senso che proprio non lo volevano pagare e a fronte di interventi della polizia hanno devastato il vagone. Sono state caricate le forze dell'ordine, però intanto stiamo parlando che quel vagone al contribuente italiano costerà parecchie decine e migliaia di euro a seguito di questi atti vandalici violentissimi, esattamente così li descrivono coloro che li hanno visti, esattamente il fenomeno che tu hai appena descritto. Ti ringraziamo tanto. Ti ringraziamo tanto.